Italiano, dolce, simpatico, carino, stallone, adulto Ragazzi è uguale, è vero che è uguale? Tu la conosci Valentina Nappi? Sì, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale Scusami eh È uguale, identica Caro, un sbaglio, abbiamo una certa somiglianza qua Stiamo uguali eh Ciao sono Giulio, ho rilevato una bomba dentro al margile dietro di voi No, non è vero Dove questa? Cosa? Scusate Qua abbiamo il regista della serata Grazie Luca Meme No, che devo dissociare Non è successo? No, niente, 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 mi devo dissociare, ragazzi, non sono stato io a me. No, 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 Giorgio.